Zack, si gira! La solita serata passata con gli amici? Beh, siamo circa in 200, più la band e 60 o 70 megapizze, sì. Uuuuh! Sai, la vita finisce in uno schiocco di dita. Perché voi non fate festa tutti i lunedì, scusate? O magari tutti i martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabati e domeniche. Sappiate che ve ne pentirete. Quindi, pace, rilassatevi e festa. È una vera pacchia, amici miei. Uuuuh!